Sarà Paolo Orefice, professore emerito di pedagogia e direttore della Cattedra dell'UNESCO su sviluppo umano e cultura della pace presso l'Università di Firenze, a ricevere il premio nazionale Nicola Bellisario a Lanciano. Il convegno è organizzato dall'Associazione Nazionale Italiana Pedagogisti, dal CIF, Centro Italiano Femminile, con il patrocinio del Comune di Lanciano. E gli obiettivi dell'iniziativa sono stati illustrati dai figli dell'illustre e docente politico lancianese Pierpaolo, Francesco e Gabriella e Gianluca Bellisario che ascoltiamo. Intendiamo mettere insieme queste tre dimensioni storiche, storia locale, storia nazionale, storia mondiale, sulla scia dell'esempio di papà che ci ha lasciato una grande eredità soprattutto spirituale perché appartiene a quella generazione che ha ricostruito l'Italia subito dopo la guerra e che guardava soprattutto al bene comune. Quindi loro, anche questi nostri genitori, anche per le sofferenze che avevano subito durante il periodo fascista e poi durante la guerra, erano particolarmente propense a guardare non nei propri interessi personali ma al bene comune e quindi si impegnavano nel volontariato, nella scuola, nella pedagogia, nei settori sociali più svariati e nella politica. Papà è stato un innovatore ma lo dico senza un vanto verso la persona. Abbiamo rintracciato dei documenti dove praticamente notiamo come negli anni, soprattutto tra il 54 e il 59, si siano istituite nella scuola della totalità di Lanciano degli organi collegiali, sono stati chiamati poi così dal Ministero allora della pubblica istruzione, che non esistevano e tante altre forme di democrazia partecipata all'interno della scuola.